ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video allora oggi faremo come potete vedere la cv market challenge di nuovo e per fare questo challenge ci serviranno delle foglietti da colorare e vabbè dei pennarelli di colori a matita a pastello come li vedete voi c'è anche chi usa la pittura però ma non vogliamo usare pitture che facciamo vedere la prima lol io scelgo la seconda che ho scelto che è questa qui io questa qua che incontro luce non è incontro luce invece si splash queen e io ho mitch swag e come seconda l'abbiamo super bb e ok carta forbice pietra per vedere chi inizierà a scegliere i colori vabbè chi se ne fredda carta forbice pietra ok ho vinto quindi tocca a me vai e che colore vuoi per la tua colore vorrei aspetta ed uvelli che noi per guardare un po per sapere i colori dell'altro abbiamo preso allora io comincio con splash queen quindi mi serve l'azzurro e rosa io sono solo due colori l'azzurro e rosa ok è l'azzurro e rosa noi servivano ok patto sì questo è matita no lo puoi prendere allora sì 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 ho tutti i due colori che mi servono il marrone non mi serve però potrei chiusare il marrone che cazzo è è ora di colorare ciao a dopo e quindi ragazzi ci hanno disturbato i nostri video la tim la tim guarda c'è 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 alle sette minuti la mattina che cavolo volete la mia vita allora io ho beccato gli unici colori che mi servivano l'azzurro per fare i capelli e la coda la coda la coda e tutto il resto c'è la coda le scarpe e poi rosa per fare tutto il vestito tutto il vestito sul vestito vedi e il marrone per fare gli occhi ovviamente tutti colori perfetti vai giù cosa a me serve aspetta tu rosso dov'è la tua a lei serve rosso nero e giallo nero e giallo questo sai giù no nero c'è quindi verde per gli occhi e giallo e rosso ok vai aspetta voglio dire che ci saranno io avevo fatto la strategia di metterli tutti da un lato e io e tu sei andato proprio in quel lato porca miseria eh la so la so infatti poi non ti ho girato il barato o le hai prese in marrone ok vai ok faranno schifo questi colori oh non tanto ne ha azzeccato uno il giallo ha azzeccato per farsi le scarpe i capelli e basso il verde per gli occhi mi serviva e il verde preso il rosso mi serviva il rosso porca miseria e di rosso puoi fare ho capito faccio io va bene ok te lo vediamo così vedete meglio ma non vedete i nostri ok ragazzi adesso noi coloriamo e ve lo faremo vedere dopo ragazzi io ho finito io quasi quasi lo fai solo gli occhi adesso che ci penso anche qui adesso quella guardavo meglio che c'è ragazzi mi hai venuto molto bene però ve la farò vedere dopo ma gliel'ho fatto vedere cosa gli dice ma tu si vede ok ragazzi io ho finito la mia penuta perfetta voilà ho fatto anche il rosso 3 2 1 e ora faccio della mia 3 2 1 la mia perfetta identica dai diciamo che è venuta bene guardate la mia è venuta perfetta è venuta bellissima anche la mia bella poi grazie a voi i colori giusti vabbè comunque bene passiamo alla prossima e ora io ho super bb io ho gitterbike a me serve in viola e rosa a me serve in viola e rosa e gialla a me serve l'azzurro l'arancione e rosa si tre colori vai tocca a te a me rosa viola e giallo anche a me serve il rosa e l'arancione e l'azzurro vai tocca a te chiudiglio ragazzi pregate per me tutti nei commenti degli angioletti che ieri io non ho barato come no ok fatto giù vai con zaccato neanche uno ha zaccato bravissima posso cambiare l'arancione? no non si cambia niente allora ha preso il grigio bellissimo arancione e di nuovo arancione e lei cosa gli serviva? mi serviva rosa e giallo e bb vabbè adesso voglio vedere cosa becco io quindi a te cosa serve l'arancione e l'azzurro? a me l'arancione e l'azzurro e rosa vai ok mescolo ok sto mescolando fatto? fatto? no e poi Giulia ti ho sentito che hai tolto qualche colore chi? tu io si magari guarda dove vai vai è a spirito questo? si si tranquilla ma avrebbe cercato colori schifosi orribili questo qui? no matita no matita no matita no questo è penarello penarello? si lo vuoi prendere? aspetta si non penso lo vedo io quale vuoi prendere? uno un penarello sto cercando mi toccati 40 penarelli no matita penarello penarello ti ho beccato il colore che serviva a te si lo cambi con il mio arancione a me mi servirebbe l'arancione e va bene poi gli arancioni ce li avevo tutti io quindi impossibile appunto c'era solo uno che però è scuro quindi non è arancione ok lo cambio però voglio quello grosso si ti pare si allora le scarpe le faccio verdi se vi giustirte cioè io cioè io beh non è che stai messa meglio di me però infatti vabbè comunque ragazzi adesso coloriamo allora ragazzi io ho finito sto aspettando Greta che sta cambiando in continuazione i colori e non funzionano si i blu sono troppo che non funzionano me l'ho cambiato solo una volta anzi no questa qui è la seconda è la mia è venuta per il mio ragazzi guardate che è vinto oggi allora questa è la mia vediamo come avete capito super bb e guardate me la sono gestita bene comunque perché guardate tutto il viola l'arancione gli occhi viola dalla camera dalla camera dalla camera ah non si vede ok vai ho finito anche io vanno a vedere questa qui è la mia ok ora facciamo vedere tutte e due sono la mia aspetta ok la mia super bb e la mia mister web non so come si chiama io anzi io posso del rosso tutto l'azzurro è venuta benissimo a me questa qui è venuta benissimo vabbè tutte e due sono venute bene comunque ma io preso la mia 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 di essere valutosa no e lasciate like scrivete nei commenti chi ha vinto e scrivetelo nel nostro canale e scrivetelo mi raccomando e se volete altri video basta scriverlo perché noi vi accontentiamo ciao ciao